Alberto si bello bel pescetto bel pescetto colorato il pilota è sempre bello e buono è viscilo però la pampera scivolosa orca miseria aspetta per prendi sta canna piecata ah l'ha lasciato sopra 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 ecco vai ho detto che ci stanno no che c'è il pilota bello non posso andare la strappa come come lo chiama angelo che so sai come lo chiama angelo la pampera in siciliano la pampera scivolosa non è buono fa muovere bene ma io penso un pesce pilota perché ce ne stanno diversi penso che sia quello eccolo eccoli eccoli qua sotto eccolo 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 bello vai tirato su ale guarda quello alessandro di quale sa ecco eccoli eccolo 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 vengo anche io a prenderne un altro aspetta ecco non tornando alla sua presa un bel mostro mostro tira alberto va beh ma che so tutti i piloti dell'italia bello questo è bello si è agganciato qua al giacchetto aspetta che mi metto ma ce l'hai Ale? si eccolo eccolo qui vedi Ale? ecco in una condinetta bello Ale guarda questo quanto bello vedete questo ha mangiato proprio bene attento che scherza il sangue che tecnica è questa Alberto? quello si richiamano i pesci faccio lì più a galla la famosa tecnica del frustino bravo un frustino sull'acqua bravo vuoi vedere? che è una tecnica che si usa alla discoli? una tecnica che si usa no no internazionale perché la faccio ah questa è mondiale stanno là Alessandro dai stiamo quasi in tutta corta ma che intanto stiamo facendo venire il mal di mare a chi ci guarda il filmato eccolo ragazzi eh eccolo ragazzi eh grande e bello 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 vai Ale dai Michi forte il suo cannino bello è il cannino d'Alberto è il cannino d'Alberto vai escello bello c'è una rivelea che c'è 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 il pigiama a righe? pigiamato i piloti dell'Alitalia tutti qua eccolo preso eh bello bello bel pilotino eh bello un pilotino giovane giovani la cassetta bello fa provare bene la cassetta già c'è fa provare bene bravo bravo si bello bel pescetto bel pescetto colorato il pilota è sempre bello è buono è viscito però eh è una riunione di piloti dell'Alitalia con il postano è riunione con i sindacati si ci stanno tutti i sindacati qui sotto stamattina simpatico eh guarda la coda che è molto simile vedi al tonno al pesce spada i grandi pelagici vedi con il timone qua vedi bello eh bel pescetto dicono che sono buoni miche eh stasera l'assaggiamo vino bianco c'è vino bianco c'è noi assaggiamo un saluto signori anche oggi ci siamo divertiti abbiamo fatto un po' di pescetti pesce pilota pesce stupendo bello molto bello colori vivace strisciato impigiamato siamo divertiti in compagnia di alberto di alessandro abbiamo fatto un bel cestino anzi una bella cassetta di pesci pilota proviamo a cucinarli e vediamo che uscirà fuori li facciamo freddi una bella cassettina di pesci pilota noi ragazzi ci vediamo la prossima volta mi raccomando iscrivetevi al canale e seguiteci come sempre un abbraccio dai